ciao amici di mio pilates continuiamo con lo spine stretch forward arriviamo da double leg stretch single leg stretch abbiamo già fatto qualche esercizio della tecnica base diciamo del del pilates con i due blocchi dello yoga attacco e tac ora spine stretch forward posizionate un blocchetto o un libro sul quale spese orizzontalmente perché così riuscite a prendere bene la l'appoggio diciamo di entrambe gli ischi ok e smettiamo l'altro blocco l'altro libro nella lunghezza ok così sarà più facile l'appoggio del della gambe in questo caso io sto appoggiando la gamba sinistra e mettiamo quindi mi raccomando la posizione simmetrica del blocchetto sotto al bacino e diritta sul longitudinale diciamo del blocchetto sotto la gamba cosa dobbiamo immaginare questo in questo esercizio che apparentemente semplice è davvero pur essendo base davvero difficile da cogliere importantissimo didatticamente pensare innanzitutto una parete verticale davanti al vostro piede sinistro quindi dovete staccare da questo muro immaginario l'avampiede mentre con il tallone spingete contro il muro il secondo muro ce l'abbiamo dietro la schiena siamo allineati proprio dalla schiena alla testa per il momento mi tenete la gamba destra distesa ok e le braccia distese scusatemi la gamba destra flessa perdonatemi piegate e braccia distese su parallele al suolo inspirate e nel fuori l'aria staccati talmente la testa dal muro le spalle scavate scavate qua qua sotto non succede niente rimaniamo diritti e compatti nella nostra powerhouse mi allungo in avanti in spine stretch forward e ritorno inspiro e ancora fuori l'aria stacco la testa dal muro stacco il collo stacco le scapole e le porto in avanti mentre la powerhouse sorregge il girovita ancora uno insieme fuori l'aria giù testa collo scapole powerhouse di sostegno tiro 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 e ritorno fantastico ora alziamo la punta del piede destro lasciando il tallone giù fuori l'aria stendi inspiro torno fuori l'aria stendi inspiro torno fuori l'aria stendi resta fuori l'aria giù spine stretch forward ancora mi tiro mi tiro mi tiro mi tiro mi tiro e ritorno ancora uno fuori l'aria scavo 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 mi tiro bene forza l'ultimo arriviamo a 3 molto bene così ci lavorano anche le braccia lasciatemele li parallelo al suolo solleva la gamba destra e giù la sollevo quasi come avesse un altro supporto la sollevo mantengo identica la posizione del resto del corpo molto bene sapete già cosa ci aspetta solleviamo la gamba e andiamo in avanti con il busto in spine stretch forward solleva spine stretch forward giù la gamba e dritto il busto bene i muri vi ricordate il muro davanti al piede dietro la schiena ancora fuori l'aria solleva la gamba e spine stretch forward e ritorno ancora uno fuori 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 fantastico ok ragazzi cambiamo lato mettiamo supporto della gamba destra il blocchetto sempre nella longitud nel per la lunghezza così diamo un buon supporto alla gamba la sinistra la teniamo piegata ma ritroviamo una buona posizione anche qui muro davanti al piede destro muro dietro alla schiena braccia parallele al suolo inspira fuori l'aria stacca la testa dal muro stacca il collo stacca le scapole tirati 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 e ancora vai scava e giù la testa e allunga 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 ancora uno fuori 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 fantastico dai che ci stiracchiamo per bene ora alzate la punta del piede ma lasciatemi il tallone a terra inspira fuori l'aria allungati una recupero mantieni tutto fermo due e altre rimani gambe un po sfasate come altezza ma noi saremo simmetrici nella esecuzione di spine stretch forward fuori 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 e ritorno ma è stata con la testa dal muro il collo le scapole su spalle mi allungo sempre forti nella nostra powerhouse ragazzi ultimo fuori 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 fantastico ora resto muri davanti al piede dietro la schiena non vedete molto adesso sono dall'altra parte sollevo la gamba sinistra pari all'altra ma non avrà il suo supporto il suo blocchetto ma solleva e giù solleva parte finale spine stretch forward insieme al sollevamento della gamba per tre volte forza un bel respirone solleva la gamba spine stretch forward ecco io con la mia gamba sinistra purtroppo sempre difficoltà sentite che voi un po di differenza fra i due lati fuori 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 ancora uno forse insieme fuori 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 mi allungo mi allungo tengo 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 e ritorno molto bene vi aspetto ragazzi innanzitutto iscrivetevi sulla canale se non vi siete ancora iscritti e vi aspetto per adesso il prossimo video un abbraccio